a piara sant'andrà luco dei marci sono sceso qua al via del montanaro sotto il bar vicino adiacente alla piazza vicinamici un po' oggi una bella giornata serena quindi c'è una apparenza di gente scendo qua vediamo questa sarebbe la parte qua sotto vediamo qua c'è il comune altra piazza di fronte al comune bellissima giornata gli altri anni c'è stata sempre ma pioggia pioggia un po di martello quindi tutta sta povera gente ambulante veniva qua noi a facciano anche si sente un odore qua da cosa di fritto di cosa ma sappiamo qua non abbiamo adesso spago ma sotto quello il comune questo sono le scuole elementari vediamo piano 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 adesso salgo qua sopra un avvicino e più con gamba una volta ho diverto io mi ricordo 50 anni fa c'era un paletto sono passati anni molte cose sono cambiate vabbè gli anni passati per tutti adesso salgo qua sopra verso le scalette gente che sale e gente che scende adesso sono salgo qua adesso sono salito e vediamo il bel panorama da qui sopra salgo abbiamo uno piano 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 questo sarebbe la parte ecco qua sono le rotte sopra facciamo una visione sommaria cominciamo da qua dove sono salito quel monumento dei caduti montanari vediamo molto piano fare una visione quello là sono le scuole il comune di Luco qua sarebbe la parte sotto il montano il montano ricomincia da là piano piano sale sale là ecco qua visione di qua quello è il monumento dei caduti facciamo piano piano la visione senza fretta questa è la piazza qualcuno si appresta rimettuto a posto sta da ripartire stavola gente hanno fatto molti sacrifici ecco la chiesa di Luco de Marzi St. Giorno di Battista ma questa è gente che lavora che fa sacrifici per guadagnarsi un pezzo di pane con la crisi che ci sta tu pensi vi auguro buona fortuna a tutti quanti qua per un'ora per un'ora qua non c'è più niente circa ma stamattina comunque c'è un vasto sentimento ma la gente adesso veramente bella la piazza ma vado qua piano arrivata sì c'è una grande affluenza di gente qua c'è anche la misericordia va bene sì ah succede qualche cosa mi sa che si accoglie per la misericordia questa è la chiesa ora salgo pure qua verso la chiesa ecco qua la misericordia ringraziamo tutti questi della misericordia con impegno e passione stanno sempre a disposizione della popolazione queste sono le scale della chiesa vediamo là un fondo verso questa qua via roma salgo sopra la chiesa questa qua la porta con la chiesa vediamo qua sopra uno splendido panorama bella questa chiesa questa è la parte centrale anno domine 1787 a solio andiamo da questo a patto vediamo la visione su maria qua buonasera a tutti